Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. E nulla, il 21 è successo che praticamente abbiamo fatto le solite cose, tra cui siamo andati in piscina, abbiamo giocato insieme e tutto. Alla sera siamo stati anche insieme, sì scusatemi. E oltre a quello sì, siamo stati insieme e ci siamo divertiti molto anche in discoteca e tutto. E no, in realtà siamo... no, in realtà alla mattina siamo stati in discoteca, poi abbiamo visto il nostro film e poi praticamente siamo stati in piscina alla mattina e nel pomeriggio abbiamo cazzeggiato, diciamo. E nulla, praticamente poi si è messo a piovere, sì scusatemi che... Ok, praticamente è successo che abbiamo fatto le solite cose, ma non nel modo normale in cui di solito lo facciamo. E nulla, a parte quello, ci siamo abbastanza divertiti, e a parte il fatto che ero anche stanca e tutto, non avevo voglia di registrare, ma tanto ho detto che almeno di due giorni sono a casa, quindi ho aspettato di essere a casa. E nulla. E io adesso vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un istimo vlog. Ciao!